Pomeriggio inoltrato, me ne sto attivanato, ho letto un po' senza far caso alla pagina. La mente vaga, senza meta. È un po' che non scrivo nulla. Sarà grave, ma in fondo che bisogno c'è di scrivere? Scrivono tutti oggigiorno. Boh, devo cambiare questo divano. Ha esaurito la sua forza ispirante.